Buongiorno da Meteo.it. Oggi tregua dal maltempo ma sarà comunque una giornata fredda e ventosa. Andiamo a osservare in dettaglio le previsioni per le prossime ore perché avremo ancora residua in stabilità in Sardegna, per il resto sole alternato a nubi. In serata avremo un primo peggioramento del tempo, infatti le piogge saranno diffuse sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Poi domani l'affluire di aria gerida porterà maltempo diffuso al centro-sud con piogge e rischio di temporali e nevicate a bassa quota sull'Appennino e sui monti delle isole maggiori. Da inizio settimana avremo un ulteriore peggioramento perché l'anticiclone di blocco favorirà il continuare a fluire di aria gerida che porterà ancora a freddo e maltempo. Ma grazie a tutti. Grazie a tutti.